il grande amore international version e il 23 settembre su Rai 1 il volo un'avventura straordinaria mi raccomando va bene ragazzi ciao allora niente tanto faremo un altro periscope presto va bene ciao ragazzi noi andiamo a mangiare ciao un bacio ciao ciao a tutti quello è il campanile di Rosseto degli Abruzzi vedete quanto è bello ciao a tutti